Come sarebbe contento il mio nonno Vittorio Fiorentino se sapesse che tra pochi giorni dal 7 di giugno fino a sabato Radio Capital, TG Zero, Lateral, Il Gieco e tutta la carovana si sposta nella sua città a Firenze. Lui non ci sarà, se ne è andato da un pezzo, ma ci saremo noi con le nostre trasmissioni per vedervi, per parlarvi, per ascoltarci a vicenda come amiamo tantissimo fare quando finalmente possiamo incontrare chi ci ascolta e chi ci ascolta può vederci in faccia. Oddio questa è la parte più preoccupante. Vabbè insomma ci vediamo comunque a Firenze e vi aspettiamo nei prossimi giorni. A più tardi con il TG Zero.